Sogni rimasti nel cassetto è la storia di Umberto, un uomo di 37 anni che ha appena trascorso 3 anni in prigione poiché il suo migliore amico, Luca, lo ha messo in un giro di affari illeciti di cui Umberto non sapeva nulla che però l'ha fatto finire al fresco. Una volta uscito di galera, Umberto vuole riallacciare i rapporti con suo figlio Guido che ha 13 anni. Guido è cambiato moltissimo. Prima era un bambino pieno di sogni e aspirazioni voleva diventare un grande pilota come suo nonno Augusto, il padre di Umberto, soltanto che ora non gliene importa più nulla è diventato disilluso nei confronti della vita e Umberto non riesce a spiegarsi il perché. Si sente in colpa appunto per il fatto di essere finito in galera ma la ex moglie Elvira gli dice che non è quello il motivo infatti Guido, curiosando fra le vecchie cose del padre, ha trovato questo diario che Umberto aveva scritto quando era ragazzino che conteneva una lista. Lista dei sogni che devo realizzare per diventare un vero adulto. In questa lista appunto Umberto aveva scritto una serie di obiettivi che si era prefissato ma che non ha mai completato anzi ne ha completato soltanto uno che era quello di mettere le mani su di un fumetto rarissimo. Guido, dal momento che suo padre Umberto lo ha sempre pressato dicendogli che deve inseguire le sue passioni e le sue vocazioni, si sente preso in giro dal padre e pensa che quelle che gli ha detto siano soltanto menzogne. Così Umberto ha un momento di lucida follia e propone uno strambo accordo al figlio. Ovvero, se Umberto riuscirà a completare tutti i punti della lista che aveva scritto da ragazzino, Guido, in cambio, dovrà iscriversi all'istituto tecnico aeronautico, l'Aviation College, un istituto prestigioso. Guido accetta più per scherzo che per altro, ma in realtà il padre fa sul serio. Padre e figlio vengono così catapultati in una serie di avventure strampalate. Appunto, Umberto è sempre seguito da Guido che deve verificare che il padre compia davvero i vari punti della lista che li esegua. E le avventure sono di diverso tipo, ad esempio Umberto deve chiedere alla Cottarella che aveva durante le scuole medie di uscire, Cottarella che adesso è diventata una persona un po' squilibrata che lo metterà nei guai. Poi, Umberto deve vincere la partita contro la squadra rivale di pallavolo delle scuole medie, che è composta adesso da gente che è diventata professionista, mentre i suoi ex compagni sono tutti fuori forma, alcuni alcolizzati, un addirittura morto, tanto che Guido dovrà sostituirlo, e un sacco di altre avventure, nel corso delle quali padre e figlio, divertendosi e vivendo situazioni assurde insieme, imparano a conoscersi meglio e si riavvicinano. Il problema è che quando arriva l'ultimo punto della lista, ovvero affronta la casa degli orrori del Luna Park, un'impresa che sembrerebbe banale, a lavorare alla biglietteria del Luna Park c'è Luca, l'ex migliore amico di Umberto, che lo ha fatto finire nei guai. Luca svelerà a Guido una verità su suo padre che cambierà, mi metterà a dura prova, il rapporto fra i due, una verità oscura dietro la quale però si cerano delle motivazioni che Guido, in un processo di maturazione, dovrà accettare e imparare a conoscere veramente chi è suo padre. Grazie per avermi ascoltato.